Reduce da due goleade consecutive, 6-1 a Collalbo e 7-0 in casa dell'Asiago, il Ponteva cerca di proseguire nell'eccezionale striscia positiva ospitando il Polzano. Una delle tre formazioni in vetta alla classifica con sei vittorie di fila alle spalle. Tom Pockel deve fare a meno di Peter De Gravisi, mentre sull'altro fronte risulta ancora indisponibile. Anti-Brun, in porta gioca Günther Hell. Con Kevin De Vergilio in panca dei puniti sono i bianco-rossi a farsi notare per primi in avanti. Disco da Knacksted a Sharp che da posizione defilata tenta la battuta, deviata in maniera quasi impercettibile da Petizian. La risposta friulana arriva proprio dalla stecca di De Vergilio, il quale conclude senza convinzione verso la porta avversaria trovando però la complicità di Hell che di fatto costringe al fallo Sharp. Poco più in là Knacksted rifila una serie di cazzotti a Goebbels finendo in panca puniti assieme al suo avversario. In situazione di 5 contro 3 il Pontebba sfiora concretamente il vantaggio sull'asse Inachak-Milovanovic, ma Hell è superlativo nell'opporsi. Poco dopo De Vergilio suggerisce per Jannone, chiuso anche lui da un bel intervento del gol di avversario. A metà frazione occasionissima sulle stecche ospiti. Knacksted lancia nello spazio Gigliatti che non riesce a superare l'attento Petizian, capace di tenere lì il disco con il gambale sinistro. Alla termine della prima frazione punteggio fermo sullo 0-0. Match equilibrato non proprio visto che nella ripresa la musica cambia. In power play i friulani passano quasi subito, tiro di De Vergilio, Waddell entra a vittoria e trova fortunasamente Goebbels che non fallisce con lo specchio spalancato. Il Pontebba sfrutta al meglio i due minuti inflitti ad Ambrosi e spezza l'equilibrio al 22-20 affidandosi al settimo sigillo stagionale di Tommy Goebbels. I Foxes provano immediatamente a rientrare, disco da Borgatello a Edwardson, deviazione toccata solo da Petizian con il disco che si stampa sulla traversa. La sorte volta le spalle al Bolzano. Sull'altro fronte invece si segna ancora il disco buono, capita Tomko sulla blu, tiro da fuori e rete altoatesina che si gonfia di nuovo. Al 25-20 si registra così il raddoppio da parte dei padroni di casa. Il gol è assegnato a Goebbels che va a deviare davanti porta il tiro da fuori del compagno di squadra. Passano tre minuti e arriva pure il tris dei padroni di casa. Discesa di Rizzo che resiste a Meiers e impegna severamente Heile il quale non può davvero nulla sul tappin da parte di Inačiak. Non si arresta la vena realizzativa del Pontebba che al 28-18 si porta sul 3-0. Per Inačiak si tratta del sesto gol nel corso di questo campionato. Nessun segnale sul fronte Bolzano ed allora sono ancora i friulani a passare. Anderson lancia un liberissimo De Vergilio il quale nell'uno contro uno non perdona. Poker allora per il Pontebba che arriva al gol con una facilità disarmante. Difesa ospite aperta e gol facilitato per De Vergilio. A pagare il momento no è Günther Heile richiamato in panchina per lasciare posto a Zaba. Nessuna colpa comunque per il portiere bianco-rosso sui gol incassati. Josh Meiers prova a suonare la carica in casa Bolzanina ma la sua azione insistita porta unicamente ad una conclusione centrale neutralizzata dal portiere di casa. Sull'altro fronte invece si continua a segnare senza sosta De Vergilio. Pesca Inačiak, tiro al volo respinto. Iannone con il tapin per il 5-0. Festa grande in casa friulana al 33-31. I padroni di casa sono infatti sul 5-0. Cifra tonda intanto per Iannone al decimo gol stagionale. Match praticamente deciso già al termine della seconda frazione. Nonostante questo il Pontebba segna ancora in avvio di terzo tempo. Dorigatti perde il contatto con il pack. Giuliano glielo soffia suggerendo per De Vergilio che non perdona. Doppietta personale per Kevin, De Vergilio e Friulani in paradiso. Sesto gol della serata. L'attacco gira alla meraviglia. Reazione d'orgoglio da parte dei Foxes che si affidano alla coppia Knaksted-Sharp. La conclusione del numero 16 è neutralizzata da Petizian. Nella seconda metà del tempo settimo sigillo dei padroni di casa. Break da parte di Milovanovic il quale va via in velocità tagliando a favore di De Vergilio che chiude con una tripletta la sua serata magica. 55 e 38 sul cronometro. Pontebba 7, Bolzano 0. L'unica cosa che riesce al Bolzano è rovinare un possibile shootout a Petizian. Tiro di Egger. Disco ancora vivo dopo la parata. Etappin vincente da parte di Mark McCatchon. Al 57 e 28 si concretizza il primo squillo dei Foxes. Davvero troppo tardivo. Finisce infatti 7 a 1 in favore del Pontebba che sale al quarto posto in classifica. Il Bolzano dal canto suo perde la vetta a favore del Val Pusteria.